Mette rigori che è l'unico che abbia, il 45 ha sempre giocato in porta, quindi ha l'espuso il 45 che era il portiere di riserva, ci si fa qualche male, no, tra l'altro ha giocato con lui in porta, si ha pareggiato, ha portato il rigore, ovviamente il rigore. E' ancora attaccati che puoi dal campo, Ale, sopra di te devi lanciarla, non indietro, Ale, non è la bomba, eh, che devo riconoscervi la testa, che devo riconoscervi la testa, eh. Vieni qua, vai, vai, ecco l'olì, dai, dai 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 dai, bravissimo! Si deve fermare, eh, si deve fermare, non è che dovete volare, è che voli davanti. venite venite c'è un altro spalviero Stefano che fa il spalviero puntare uno e dove hai ora? e dove hai ora? va bene dai guardiero andare andare andiamo a puntare uno guarda veloce aiutatemi guarda che prete? guarda che prete? vede suoni tutti vede tutto suoni vai spalbiero vai dentro, vediamo adesso chi passa vai il farmiero non ti si attaccati i farmieri non ti si attaccati vediamoci bene su tutto il campo venite due metri più indietro due metri più indietro? spalbiero vai dai 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 prendilo prendilo passato passato non vale fallo uscire adesso sei solo contro tutti via buono 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 vediamo ancora chi passa ma qua ce n'è uno da solo coprite questo spazio prima di manciare la palla hai toccato? guarda qua che è un quarto d'ora che qua vi sto spettando guarda qua che è un quarto d'ora che qua vi sto spettando Non guardate mai, è anche il nome più bello all'interno. Un rimbalzo, un rimbalzo, un rimbalzo. Gioca! Luca! Prima devi parlare, dopo gliela lanci. Nome! Vai! Quando vi guarda gliela giocate. Luca! Eh, Luca c'è la palla, vuole la lanci a me o Luca la faccia. Oh, veloce! Se io parlo di 10 minuti, ma tu quanti due? C'è la finta del tempo? Vai, dale! Annoce! Dici! Mario! Andrea! Ok, stop! Adesso, aggiungiamo una cosa. Voi abbiamo detto che siete le isole, giusto? Adesso mettiamo gli squali che si muovono. Gli squaletti sono liberi di muoversi in mezzo alle isole dove vogliono. vogliono una cosa. E devono intercettare. Quindi devono... Lascia giù. Lascia giù. Lascia giù. Più qui. Più qui. Più. 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 PC Sì. Ok, tu devi impedire che la palla arrivi a Valentinio. In questo caso, io che ho lanciato mi sono eliminato e tu hai guadagnato il 3. siiii ma tu la dovresti prendere al volo quindi se non riesci a prenderlo al volo ha vinto lo squalo fai tu lo squalo al volo siiii pronti? via no fermo non è più di rimbalzo adesso è al volo eh il squaletto tu devi muoverci oggi ti conoscere il tuo tempo da neve oggi Emma Alessandro Luca Emanuele fai squaletto cambia vale vale cambia c'è lo squalo nel letto cambia ehi stai dentro ehi stai dentro la seconda giunta il carasio l'acqua con uno Bayern oh tornare al campo Joe palla è questa qua la palla si si palla è questa qua palla è questa qua fai giù la palla è questa qua è questa qua la palla è questa qua la palla Giorgio Giorgio corri non sei porta eh eccola ma mi fai brutta eh questa è la venizia chi è la nuova è che è qui è qui Enrico sa la parte e ce la faccio ma è qui la palla eh contropiede 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 e l'altro giorno domenico sono soldati quasi piazza Birner lì casetto sotto la piatta giù lì 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 guarda se a no si faccia bene 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 andiamo via 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 passate la giocatela allora andrei stiamo in NRG basta pallo alla bianca scusa scusa vai vai giocate giocate è lì la palla blu 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 il vostro impegno sta giocando ancora blu non stanno attaccati buona palla buona palla buona palla bianchi buona palla bianchi buona palla 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 da solo ok? ti hai sbagliato io nessuno ha battuto nessuno ha battuto mai nessuno, adesso abbiamo un replay stiamo guardando giù male, hai battuto le mani giù 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 pippo giù pippo guarda di qua io guardo di là eccolo anche loro hanno battuto io no giù 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 giù